Diluvio, pioggia addirotto di una violenza unica che sembra non dover mai finire. Uragano. Questo è il diluvio. Intanto buongiorno e benvenuti a Terrazza Milan. Vi chiedo di iscrivervi al canale, stiamo diventando sempre più numerosi. Nei nostri social ci sono diverse interazioni, mi fa molto piacere. Perché ho iniziato questa mattina con la parola diluvio. La parola del giorno è diluvio. Perché, come avete visto dalla copertina, oggi voglio rispondere alla Gazzetta dello Sport. Cara Gazzetta dello Sport, io comprendo, venendo più o meno da quel mondo, che il titolista ha un ruolo sempre più importante in un giornale. Poi gli articoli, ormai, purtroppo. E in più, quello che si vende bene è il sensazionalismo. E soprattutto il creare, se vogliamo, anche una sorta d'odio che mi sia passato il termine. Vediamo che cosa è successo ieri. Ad un certo punto della giornata, la Gazzetta dello Sport online pubblica, non so se sarà ripreso questa mattina sul cartaceo, ma purtroppo io non lo leggo, che sì, Udinese e derby da titolare, è chiaro. Benassere squalificato, con l'Udinese giocheranno. Tonali? E che sì. Come lo accoglierà San Siro? Questo è il punto di domanda. Ligoriano tornerà nell'undici di partenza per le squalifiche di Benassere con l'Udinese e poi nel derby di Tonali. Quindi sarà Tonali, che sì, Benassere, Udinese e Inter. I tifosi si sono già espressi. Vogliono Renato Sanchez, bla 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 bla, e andiamo avanti. Domandone. Domandone. Frank non gira, media voto stagionale, quindi si danno già una risposta, 5,87, ma toccherà a lui. E c'è una domanda che termina con un punto interrogativo. Domanda termina sempre con un punto interrogativo. Grande come tutto San Siro. Come lo accoglieranno i tifosi rossoneri dopo il diluvio di fischi alla lettura delle formazioni, al suo ingresso in campo nella ripresa contro la Sampdoria? Io c'ero, Milan-Sampdoria. Io c'ero. 1-0, gol di Leao. Che sì, è stato fischiato da una parte minima dei tifosi. Che sì, ha avuto due momenti. Questo lo dice giustamente. Il primo, alla lettura del nostro speaker, del suo nome. E ci sono stati dei timidi fischi, timidi fischi, per poi arrivare alla sostituzione dopo una partita inguardabile con fischi che dal timido si sono tramutati in un po' più che timidi, ma poca parte di San Siro. Io personalmente non ho fischiato che sì alla lettura, ho fischiato che sì alla sostituzione, nella sostituzione. Perché l'ho fischiato? Perché ci stava facendo pareggiare la partita, perché stava giocando male. Fischio lui, fischio Pioli, fischio chiunque, fischio Giraud, perché ho speso tanti soldi per prendere la macchina, andare a San Siro, comprare il biglietto, mangiare, pagare l'autostrada, tornare. E quindi, se vado ad uno spettacolo teatrale, mi aspetto che qualcuno possa fischiarmi. Se sono io a recitare. Perché non gli piace quello che recito. Perché non so recitare. Perché ha pagato il biglietto. Ma parlare di un diluvio è veramente cosa di poco conto. Ora io capisco che voi dobbiate creare zizzania tra noi e la nostra squadra. Perché la Gazzetta dello Sport, si sa, è un giornale che è molto attratto da colori oscuri. Il nero e l'azzurro. Purtroppo però, mi dispiace per voi, ma noi siamo stati molto chiaro con che sì. Quindi, preferiremmo che tu te ne andassi, preferiremmo che lo facessi in maniera più elegante rispetto ai tuoi precedenti. Ti sosterremo e ti fischieremo durante questo anno. Se giocherai bene ti applaudiremo, come abbiamo fatto dopo che ha segnato e è andato sotto la curva nella domenica precedente, due domeniche precedenti, e ti fischieremo quando, lo dice anche la Gazzetta dello Sport, media stagionale 5,87. Quindi, perché dovremmo applaudirlo? Abbiamo fischiato Benasser, abbiamo fischiato Diaz, abbiamo fischiato Magnin, abbiamo fischiato chiunque, Calabria, Romagnoli, abbiamo fischiato chiunque, andava fischiato e esaltato chiunque doveva essere esaltato. Chi ama il Milan lo dimostri con i fatti, cordiali saluti agli insoddisfatti. Ci fossero di curva e che scrivono così dopo che un giocatore ha detto torno e sistemo tutto, giura fedeltà. Ma ci fossero curve come quella del Milan, che scrivono chi ama il Milan lo dimostri con i fatti, cordiali saluti agli insoddisfatti. Cordiali saluti. Ma se giochi da 5, da 4, come ha giocato con la Sampdoria, sono fischi. Per te, per Magnin, per Calabria, per chiunque, per Paipioli, per chiunque. Perché noi abbiamo pagato tanti soldi per entrare e volevamo vedere uno spettacolo che in parte abbiamo visto e che a volte non lo vediamo. Perché magari io ero andato lì per vedere Ibra e purtroppo Ibra non l'ho potuto vedere. Ho dovuto vedere l'indisponenza di un giocatore piuttosto che la voglia di vincere di un altro giocatore. Quindi, cara Gazzetta dello Sport, io capisco che ormai la difficoltà nel vendere un quotidiano è sempre più presente nella tua vita, però non è con questi titoli, non è con queste menzogne che puoi portare avanti una linea editoriale. Per me, da un certo punto in poi, non si è più esistita. Il titolo, il Milan Var, quando abbiamo vinto meritatamente con il Torino, dominando, stradominando, l'anno scorso, chiaramente capisco che il tuo editore è il presidente del Torino, quindi sa va san dir che non puoi scrivere tanto contro il Torino. Per fortuna che il vostro presidente non è Zhang, oggi a tutta pagina titolate l'Inter torna a Lukaku, vuole Lukaku. Siete così innamorati dell'Inter, cambiate colore perché il rosa spesso acceso con il nero vi fa passare per un quotidiano rosso-nero di colori, di contenuti. È chiaro che la storia dice ben altro, la storia dice ben altro. Quindi, rimandiamo al mittente la bugia del diluvio di Fischi, non c'è stato nessun diluvio, io ero presente anche i filmati della partita, ma su Facebook, scusatemi, su YouTube potete trovare tantissimi video che dimostrano che Fischi erano Fischi timidi alla lettura del suo nome, qualcosa di più quando è stato sostituito, ma per una semplice ragione, che noi fischiamo tutti quelli che giocano male e non giocano per il Milan. Per quanto riguarda, come sapete, il nostro canale si occupa anche e soprattutto a fine video del Milan femminile, parliamo ancora però della nazionale, purtroppo è andata male al Garbe Cup Italia femminile, battuta in finale ai rigori dalla Svezia. I tempi regolamentari erano finiti con due gol, uno a uno, uno per parte e per noi è sempre la nostra Giacinti. Mi chiedo ancora perché, caro mister Zang, mister Zang, stavo ancora leggendo Zang vuole Lukaku, caro Gans, eh Gans e Zang più o meno, perché hai mandato via Giacinti. Io capisco che il calcio femminile interessa a pochi e magari va a periodi come per il curling, questa è l'Italia, però è come se per intenderci con i nostri amici oggi, non lo so, mandassimo via Ibrahimovic, è come se ieri avessimo mandato via all'improvviso Pippo Inzaghi, è come se avessimo mandato via Scercenco, questa è la Giacinti, non lo so perché è andata via, mi interessa poco, io sono un tifoso, mi interessano i risultati, è vero che sta facendo bene il Milan, è vero che rischia di non vincere niente, però mi chiedo come mai la Giacinti, cuore rosso-nero, sia oggi alla Fiorentina con una maglia che mi impressiona, a vedergliela addosso. Comunque, purtroppo abbiamo perso in finale, l'Italia femminile ha perso in finale, ora si ritorna con la testa al campionato, quindi tutti con la testa al campionato, ci sentiamo più tardi con video curiosi, novità, seguiteci su TikTok, seguiteci su Facebook, seguiteci ovunque, ricordatevi, Milan.soccer, il Milan in tasca, ciao!